E' una Paganese che continua ad allenarsi in vista della gara con il Barletta e dopo il bel successo di Ischia con possibilità anche di notizie di mercato perché si parla con insistenza della possibilità che possa arrivare un nuovo centrocampista, si è fatto il nome di Nicola Beati, ex dell'Inter Nel intanto uno dei giocatori che sono arrivati a rinforzare la Paganese è Vittorio Bernardo che sta facendo quello che ci si aspettava da lui dare grande professionalità in fase offensiva e soprattutto quel mix di esperienza e forza fisica che mancava forse al reparto Non credo, nel senso che i miei compagni li vedo tutti in grande forma e sono degli ottimi giocatori Magari forse un po' di più di esperienza che in questo campionato è una cosa fondamentale perché ci sono squadre attrezzate e posso dire che in queste tre partite comunque le cose sono andate discretamente bene anche se potevamo fare qualcosina in più nei due pareggi però va bene così, noi guardiamo davanti e guardiamo ora sabato al Barletta Vi mancava la vittoria, era quello forse quel qualcosa in più che serviva per darvi ulteriore fiducia in voi stessi perché insomma sì erano arrivati due pareggi con prestazioni confortanti però insomma mancava quel qualcosa in più che infondeva fiducia nel gruppo C'è adesso? Senti la differenza rispetto a qualche settimana fa? No ma pure prima avevamo fiducia perché sappiamo che comunque non siamo una squadra da buttare ma siamo una buona squadra però come ho detto prima comunque questo è un campionato difficile eppure se fai prestazioni buone devi fare qualcosina in più perché se no non le vinci le partite perciò noi dobbiamo fare come abbiamo fatto sabato che fare tutto in più, sempre in più è il 100% perché se fai il 99% magari le perdi le partite cioè noi dobbiamo fare sempre il 100% e dobbiamo fare quello che chiede il mister così possiamo levarci grandi soddisfazioni Voi in ripresa, il Barletta un po' in discesa invece dopo l'inizio insomma in cui anche la nuova società lì a Barletta pensava di poter arrivare a una classifica diversa che partite ci dobbiamo aspettare? Che avversario vi aspettate? Sicuramente è una squadra tosta perché comunque sono una squadra esperta perché ci sono dei giocatori come Biancolino, Stendardo, giocatori esperti che sicuramente verranno qua per vincere la partita ciò noi non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo fare il massimo per portarla comunque a casa perché questa è una partita importante che giochiamo con un concorrente per la salvezza perciò dobbiamo dare il massimo e poi vedremo a fine partita come andrà Grazie